good morning mister master maestro anche se come dicevo ieri probabilmente cioè proprio non lo so e non lo so però mai perché non la conosco personalmente per sapere questo se gradisce essere chiamato in questi soprannomi con questi appellativi o anche no come dicevo ieri credo più di no per la sua umiltà la sua grande umiltà e modestia in caso it's october 20 2021 and it's wednesday here in naples 69 fahrenheit around 21 celsius e questo significa che quella giornata sarà veramente 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 mite in questi giorni in questo periodo ci sembra diciamo si fa alta né quell'aria fresca di questi ultimi tempi anzi è veramente quel clima piacevole che di cui ho detto quindi la temperatura perfetta che linea con i tempi oggi credo che proprio che non pensavo a nulla particolare anzi proprio a niente come se blue skies and golden sunshine all along the way per tutto il resto del tempo e credo che anche domani dovrebbe esserci il sole ma come sempre tutto può cambiare da un momento all'altro as always we see say that is so from the mythical window that I carried the curtain and it's is beautiful carried the curtain today behind me and it's green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha Digi X 640 IPG 625 have a great day Im Yousef Douglas a special greetings to them and everyone too